Un viaggio attraverso l'Italia contemporanea, dai pittoreschi paesini dell'entroterra alle affascinanti coste, dalle montagne maestose alle isole incanteboli e in estrema sintesi, quel che il noto conduttore televisivo di Uno Mattine in Famiglia su Rai 1, Beppe Convertini, racconta nel libro Paesi miei, edito da Rai Libri, presentato alla plastic Puglia di Monopoli. Il volume è un diario di viaggio realizzato attraverso la trasmissione di Rai 1 Linea Verde e offre uno spaccato naturalistico dell'Italia che Convertini negli ultimi anni ha girato da nord a sud per la realizzazione della sua trasmissione domenicale. Paesi miei, racconta della Puglia, c'è un capitolo che si intitola Il mio pilastro, perché è la terra dove sono nato, ho vissuto, dove torno, perché ho mia madre, le mie sorelle, i miei nipoti, i miei pronipoti, a Martina Franca, che è la mia città natia. Monopoli come la Puglia è il luogo più bello al mondo, gli odori, i colori, i sapori della nostra terra sono speciali e soprattutto poi le bellezze artistiche, storiche, culturali, paesaggistiche della Puglia. Parla sicuramente di Puglia, parla del nostro territorio, quindi non possiamo che dire grazie per quello che quotidianamente fa promuovendo la nostra regione. Per lui la plastic Puglia, diciamo il complesso industriale che poi all'interno ci sono i parchi faunistici, c'è il giardino botanico, poi ci sono il museo della civiltà contadina e tante tante piante, rappresento proprio per lui una nuova linea verde.